Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video, mi scuso con la voce ma questa settimana ho avuto un raffreddore fortissimo quindi sentite ancora un po' la voce nasale. Per questo video ho deciso di fare il video tag che ha ideato Martina, Martina Sacco. Vi lascio giù nell'info box e il link al suo canale, è davvero una ragazza molto molto brava, bellissima, realizza dei trucchi davvero molto molto particolari, è brava insomma a recensire, quindi mi raccomando passate per il suo canale. Ed è il video tag il signor pennello. Allora ho qui le varie categorie, praticamente questo video tag consiste nell'indicare i vari pennelli che noi consideriamo ottimali per la stesura dei vari prodotti. Iniziamo con la categoria viso e dobbiamo indicare il pennello da fondotinta che consideriamo insomma migliore per applicare il fondotinta. In questo caso ho scelto il buffing brush del set viso delle Pixi V, Real Techniques. Come potete vedere è un pennello molto fitto, molto molto morbido, io l'ho utilizzato per il fondotinta liquido, però penso che sia anche attettanto valido per il fondotinta minerale, essendo molto molto fitto, quindi riesce a prelevare bene il prodotto e insomma mantenerlo nelle setole e metterlo insomma sul viso. È molto molto valido, mi piace perché permette una stesura del fondotinta uniforme, non vi fa quelle striature bruttissime sul viso e potete utilizzarlo anche picchiettando magari il prodotto per una maggiore coprenza, magari nei punti critici. Quindi è davvero fantastico, mi rendo conto che sul web, sui vari siti shopping online dove vendono questi pennelli non sono molto economici per quanto riguarda i set o anche i pennelli singoli. Io sono stata fortunata perché li ho acquistati al Cosmo, però fa soli 10 euro al set e 5 euro i pennelli singoli. Però se magari li trovate in sconto o qualche promozione particolare, ve li consiglio perché sono davvero fantastici. Poi, vediamo subito, ho qui il cellulare con le varie categorie scritte. Allora, se non sbaglio, abbiamo il pennello per la cipria. Allora, come pennello per la cipria io utilizzo da anni l'Elf Powder Brush ed è fantastico. C'è da dire che questo pennello qui l'ho utilizzato anche per il fondotinta liquido ed è altrettanto buono, sempre perché, come potete vedere, è un pennello bello fitto e compatto e permette comunque anche la stesura del fondotinta liquido in maniera impeccabile. Per la cipria lo utilizzo e mi ci trovo benissimo. Ho anche per tutti i prodotti in polvere, anche il fondotinta minerale che utilizzo rarissime volte in estate. Comunque è morbidissimo, mi ci trovo bene e questi pennelli della Elfo, questo qui è della linea studio che ha un prezzo di 4,50 euro sul sito Elfo ma spesse volte con le promozioni riuscite a pagarlo a meno. Ve lo straconsiglio perché è davvero molto molto buono. Ce l'ho da due anni e più ed è perfetto. Non mi perde peli, è qualcosa di fantastico questo pennello e ve lo straconsiglio. Poi, allora, adesso passiamo, se non sbaglio, al pennello da correttore. Sì. Come pennello da correttore utilizzo questo pennellino qui che ho acquistato nel mio solito negozio Claloo, nel quartiere dove abito io. Non ha marca, è in setole sintetiche e lo utilizzo, insomma, per il correttore perché, insomma, mi permette una stesura del correttore impeccabile. Riesce a raggiungere anche queste zone qui, è davvero fantastico. Tra l'altro l'ho pagato una miseria, tipo un 2 euro e sta facendo davvero un'ottima riuscita. Non mi ha perso peli, è sempre perfetto. Scusate che è sporco perché davvero lo utilizzo tantissimo. Non vi so dire la marca perché, come potete vedere, non c'è scritto su niente. Ma è davvero molto molto valido. Se lo trovate, ha praticamente il beccuccino dove, insomma, stanno le setole dorate e il manico nero. Non vi so dire la marca, ma è davvero molto molto buono. Comunque, io mi trovo bene a stendere il correttore con qualsiasi tipologia di pennello che è fatta in questo modo. Anche quello lì, ho anche un pennello simile del set, vi so, dei Real Technics, però è leggermente più piccolino. Questo qui, invece, mi permette davvero di stendere il correttore facilmente. È più grande, poi vado un po' a picchiettarlo così, insomma, mi ci trovo divinamente. Oppure, se non sbaglio, molto molto simile, ma le setole sono un po' rigidine. Lo fa a seta blu e lo trovate, tipo, a 1-2 euro o dai cinesi o nei negozi, insomma, di detersivi. Lo fa davvero molto molto simile, però è rigido. Quello lì, infatti, lo utilizzo pochissimo. Quando magari questo qui è sporchissimo ed è inutilizzabile, prendo quello lì di seta blu o quello lì dei Real Technics e ci metto un pochettino di tempo in più. Poi, andando avanti, andando per ordine, no, perché vorrei fare una cosa, capito, per ordine, abbiamo il pennello da blush e come pennello da blush vi consiglio questi qui di Essence perché costano poco e sono davvero pratici e funzionali per l'uso che, insomma, vi serve. Infatti, sono piccolini e per il blush sono proprio perfetti. Io ho questo qui, la scritta si è quasi cancellata, però se non sbaglio lo fa anche Catrice perché ce l'ho ed è tutto nero e leggermente più grande, ma comunque permette, insomma, di applicare il blush in maniera perfetta. Ve lo straconsiglio ed ha un prezzo tipo di 2, massimo 3 euro, davvero fantastici. Poi, sempre andando avanti, abbiamo il pennello da contouring e io come pennello da contouring utilizzo il contour brush dei Real Technics perché è perfetto per il contouring, perché davvero permette la stesura della terra nei punti, insomma, permette, insomma, di realizzare un contouring perfetto perché è studiato appositamente per il contouring. Io, infatti, lo utilizzo per applicare la terra qui, faccio tipo la classica, il classico, come si dice, la classica CI che va da qui, agli zigomi, insomma, vado sotto e poi lo passo un pochettino sulle tempie. È perfetto proprio per il contouring. Poi, quando voglio utilizzare il correttore quello lì di MAC che vi ho fatto vedere, lo studio sculpt di MAC che ce l'ho di una tonalità molto, molto scura e lo utilizzo spesse volte per il contouring. Vado ad utilizzare un'altra tipologia di pennello con le setole sintetiche. Quindi questo qui lo utilizzo prettamente per la terra, quindi ve lo straconsiglio perché è davvero perfetto per l'uso che ne dovete fare e si vede che è studiato appositamente per quello. Poi, se non sbaglio, abbiamo il pennello per l'illuminante che lo potete trovare. Io controllo sempre, non vorrei fare figuracce. Sì. Allora, abbiamo il pennello per l'illuminante. Io utilizzo questo qui che ho trovato nel set che vende Born Precistore con l'astuzzo rosa perla. Ed è fantastico e mi ci trovo benissimo ad applicare l'illuminante qui sugli zigomi. è qualcosa di molto molto pratico, pure sul naso o sull'arco di cupido perché è molto molto piccolino, vedete? E permette l'applicazione dell'illuminante in maniera perfetta. Il set non costa manco molto, tipo 5-6 dollari. E all'interno, oltre ad avere pennelli da viso, cioè ci sta anche qualcosa per quanto riguarda i pennelli da occhi. Quindi ve lo straconsiglio, andate a dare un'occhiata a questo set di pennelli sul sito di Born Precistore e all'astuzzo rosa perla. Ve l'ho mostrato tempo, tempo fa, quando l'ho ricevuto dal sito e devo dire che questo pennello qua è fantastico, non mi ha perso peli e l'ho lavato tantissime volte e mi ci trovo davvero bene per applicare l'illuminante. Poi, mi sa che per quanto riguarda il viso abbiamo finito. Io controllo sempre dal tele... Ah no, abbiamo il pennello per sopracciglia. Come pennello per sopracciglia? Quando utilizzavo l'eyeliner per sopracciglia, adesso sto utilizzando la matita di Makeup Forever e il brand Design & Fix di Paola P. Quindi, avendo già l'applicatore, questo qui l'ho un po' accantonato. Però, quando utilizzavo l'eyeliner per sopracciglia, utilizzavo sempre e soltanto lui, che fa parte di un set della Niko, che è una marca coreana. Questo l'ho acquistato il Cosmoprof e questo set mi ha fatto una riuscita pazzesca. Ed è il BR07 Sable. È fatto tutto in setole naturali, è qualcosa davvero di fantastico questo set. Ve lo straconsiglio, penso che lo potete trovare anche su ebay. Al limite vi scrivo giù nell'info box il nome della marca, comunque è Niko, e, insomma, brush Niko, penso che lo trovate su ebay. E, per quanto riguarda i pennelli viso, abbiamo finito. Adesso passiamo alla sezione occhi e vi faccio vedere, vi mostro il pennello che utilizzo per l'applicazione dell'ombretto. Allora, io mi trovo molto bene con questo pennellino qua di Essence, il classico eyeshadow brush di Essence. Mi ci trovo bene, l'unica pecca è che non mantiene, insomma, il colore, cioè, il colore, insomma, che... scusatemi. Allora, quando voi andate a comprare, questo pennello è di un bellissimo viola scuro, però perde un pochettino di colore. Non mi ha perso un pelo, devo dire la verità, ce l'ho da parecchio tempo e l'utilizzo spessissimo. Comunque, mi ci trovo molto molto bene ad applicare l'ombretto a un costo bassissimo e ve lo consiglio. Ed è il eyeshadow brush classico di Essence. Poi, per quanto riguarda i pennelli da sfumatura, ah no, vi volevo far vedere anche un'alternativa per quanto riguarda il pennello per applicare i prodotti in crema, gli ombretti in crema. Io utilizzo questo pennellino qui della donna più, che è in setole sintetiche e mi ci trovo benissimo per applicare tutti gli ombretti in crema che ho. Dai tattoo di Maybelline agli astra sul color, a quelli di Pupa, a quelli di Essence, mi ci trovo davvero bene e ve lo straconsiglio. Io comunque i ombretti in crema non li applico con le dita perché come potete capire con le unghie è un pochettino impossibile, però utilizzo questi pennellini qui in setole sintetiche che sono davvero molto molto buoni per l'utilizzo dei prodotti in crema. Poi, per quanto riguarda i pennelli da sfumatura, ve ne faccio vedere due e fanno parte del setto occhi delle Pixi V, i Real Techniques. E abbiamo questo qui grande, tondo, il Deluxe Crease Brush. Spero che si può leggere. Deluxe Crease Brush. Ed è tondo e cicciotto, come potete vedere. e lo utilizzo per sfumare per fare la gradazione di colore verso l'arcata sopraccigliare. Poi, per sfumare nella piega sto utilizzando da poco questo qui perché devo dire la verità per quanto riguarda i pennelli da sfumatura io utilizzo questo perché per me questo è il capo pennello, davvero, è il signor pennello. È qualcosa di fantastico. Oppure se il trucco vi capita che mettete un po' troppo prodotto oppure il trucco non è sfumato bene quando ve l'ho andata ad applicare avete bisogno di apparare il danno voi prendete questo pennello fate insomma qualsiasi movimento e vi aggiusta il trucco e siete perfette, davvero. Comunque, per me questo tag l'ho voluto fare ci ho messo un po' di tempo a farlo però è molto utile perché a parte bisogna essere un pochettino pratiche del make-up o insomma dei vari trucchi eccetera eccetera però sono anche importanti i pennelli quindi un pennello del genere anche per le ragazze che non sono molto molto pratiche vi salve il trucco è davvero è testato basta fare tipo qualche qualche pastatina così e vi salve il trucco poi sto scoprendo quest'altro quest'altro pennello da sfumatura qui che questo è nato insomma per la sfumatura ed è il base shadow brush e questo qui lo utilizzo per applicare insomma e sfumare gli ombretti dall'angolo esterno verso l'interno ed è molto molto buono è inutile dirvi che questi pennelli qui sono morbidissimi compatti e non perdono una setola davvero quindi fantastici l'unica cosa che ho notato è che le scrittine qui sul manico tendono a cancellarsi anche il manico sotto che è tipo di silicone si scambia un poco ma poi per il resto sono perfetti ed è l'importante insomma è questo poi pennello da precisione vi faccio vedere due tipi di allora spieghiamoci allora come pennello da precisione io amo questo qui della Niko sempre il set della Niko ed è il BR08 Squirrel Squirrel una roba del genere e essendo come potete vedere molto molto piccolino permette di applicare insomma nei punti critici i vari insomma i prodotti per essere più precise poi sempre nel videotag c'è il pennello che voi utilizzate per illuminare l'arcata sopracciare utilizzo sempre questo del set occhi delle Real Techniques ed è l'accent brush non so se si potrà mai leggere comunque accent brush e io lo utilizzo per illuminare l'arcata sopracciare però questo qui comunque non mi faccio scrupolo ad utilizzarlo per magari illuminare insomma il condotto lacrimale oddio me lo stavo buttando nell'occhio cioè tipo convinta comunque lo utilizzo anche come pennellino da precisione perché come potete vedere è un mini 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 pennellino da ombretto però in miniatura lingua di gatto in miniatura è davvero molto molto carino e funzionale perché lo potete utilizzare insomma per vari usi come faccio io sia per illuminare l'arcata sopracciare oppure l'ho utilizzato per applicare il correttore per disegnare meglio le sopracciglia cioè l'ho utilizzato un po' per tutto devo dire la verità quindi vi stra consiglio anche questo pennello non so se li potete acquistare singolarmente io ve li sto facendo vedere al limite potete vedere per il set e questo qui della Niko che davvero questo set mi ha fatto una riuscita fantastica davvero eccezionale e sono pennelli coreani della Niko manico in legno e set naturali poi come pennello a penna vi faccio vedere questo qui sempre della donna più che come potete vedere il classico pennello a penna e ha una grandezza insomma giusta ragazzi mi sto accorgendo che sto sudando con una pazza comunque ha una grandezza giusta ed è sempre della donna più questo set era composto da tre pennelli quello lì che vi ho fatto vedere da ombretto in setole sintetiche questo qui a penna e uno più fine o per le liner o da labbra e questo set me l'ha mandato Mara ciao tesoro ed è davvero molto molto buono davvero se avete la possibilità di acquistarne nei punti vendita donna più ve lo straconsiglio ed è molto molto valido come come pennello a penna io lo utilizzo anche per applicare scurire l'angolo esterno dell'occhio con un ombretto più scuro poi sfumo leggermente è davvero molto molto pratico e permette l'applicazione dell'ombretto in maniera precisa perché va proprio a punta non so se si può notare mi sa di no comunque straconsigliato anche questo poi sempre per quanto riguarda gli occhi c'è il pennellino dei liner per eccellenza e questo qui già ve l'ho fatto vedere ed è il pennellino duo della splash cosmetics che da una parte c'è quel pennellino dei liner e dall'altra quello lì da ombretto io utilizzo questo qui dei liner più tiene più di due anni questo questo pennellino qua mi ha perso una setola è davvero fantastico lo pagai 5 euro in fiera quindi ve lo straconsiglio se riuscite a trovarlo quest'anno o su qualche sito perché è davvero un pennello di ottima qualità e funzionale perché da una parte avete il pennellino dei liner e dall'altra quello lì da ombretto quindi pagando insomma 5 euro non so sui siti quanto può costare avete comunque due pennelli in uno poi per quanto riguarda la sezione labbra un pennellino da labbra che utilizzate vi faccio vedere questo pennellino qui del set del travel set di Diego Dalla Palma questo qui mi è stato regalato quindi non vi so dire il prezzo ed è questo qui è fatto in setole sintetiche è piccolino perché è un set da viaggio di Diego Dalla Palma e utilizzo molto questo insomma questo questo pennellino qui da labbra perché è davvero molto molto valido come gli altri pennelli che adesso vi mostro e vi faccio vedere ce la possiamo fare questo è il set insomma completo di Diego Dalla Palma quello che non mi piace è moltissimo questo qui perché si spennacchia subito non so quanti pennelli mi ha perso non l'ho mai usato c'è un pennellino da ombretto una spugnetta uno da labbra e uno per pettinare le sopracciglie è davvero molto pratico perché occupa davvero pochissimo spazio e niente ragazze questo è quanto io ringrazio Martina perché ha davvero avuto un'idea particolare per questo videotag lo trovo molto utile e la saluto ti mando un bacio tesoro te l'avevo detto che lo facevo questo videotag ci ho messo un bel po' di tempo però l'ho fatto io vi mando un forte bacio ragazze e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao